Andiamo ad estrarre questo proffè con il nostro nuovo grinder Abbiamo tutte le staticità, quindi abbiamo una perfetta consistenza della dose Both grammy in, stessi grammy out Andiamo ad andare a una pressione omogenea Un pulsantiera in questo caso, non abbiamo una pulsantiera touch Per aiutare proprio il barista, abbiamo tre profili impostabili In cui possiamo andare a regolare il blooming e la nostra preinfusione Cambiato il sistema docente, abbiamo anche la possibilità di intervenire in maniera abbastanza rapida Quindi possiamo entrare subito in regolazione e modificare sia gli impulsi d'acqua che ovviamente il profilo di preinfusione Ritorniamo alla schermata iniziale Sesto sistema multiboiler Stabilità termica, liquida Andiamo subito in erogazione Andiamo subito in erogazione Abbiamo la nuova lancia a vapore Cold touch anche in questo caso Un po' più ergonomica proprio per aiutare quei baristi che hanno un largo consumo del latte L'espresso, la temperatura, con caffè Grazie mille Grazie mille Grazie a tutti.